Non si tratta solamente di contrastare la vendita di merce contraffatta, ma soprattutto di prevenire possibili episodi di illegalità e rafforzare la percezione di sicurezza di chi frequenta le spiagge. Questo quanto emerge dal primo bilancio dell'operazione Spiagge Sicure, portata avanti dalla Polizia Municipale con la collaborazione di Carabinieri e Guardia di Finanza. I buoni risultati si intendono 12 verbali elevati, 6 sequestri di cui 3 congiuntamente alla Guardia di Finanza, più tutta una serie di ritrovamenti di materiale depositato anche contraffatto di cui abbiamo notiziato la Procura della Repubblica. Esattamente abbiamo inviato 3 informative alla Procura della Repubblica più un'altra denuncia di soggetto privo di permesso di soggiorno che vendeva materiale contraffatto. Quindi più abbiamo anche sanzionato due volte i venditori di cocco che non erano a posto con i permessi. Grazie a 42 mila euro di fondi vincolati, arrivati dal Ministero dell'Interno, la Municipale è stata affiancata dall'organizzazione di vigilanza privata La Pantera, che dall'8 luglio ha pattugliato le spiagge insieme a loro. Spendere un plauso alla Polizia Locale perché è estremamente collaborativa con noi. Noi fondamentalmente facciamo un servizio di monitoraggio e quindi se non avessimo l'appoggio loro poi il farmo della persona non potrebbe essere poi concluso. Ci tengo a precisare, essendo un comune anche di Sesto, che questo importo era vincolato proprio a questo bando, a questa operazione. Però diciamo che avevamo avuto un ritorno veramente positivo anche da parte dei turisti e degli operatori balneari. Proprio per la tranquillità in questo mese che si è venuta proprio a creare sulle spiagge, perché prima avevamo fatto una specie di test, ogni 10-12 minuti anche i turisti erano proprio fra virgolette disturbati anche da questi venditori abusivi che molte volte hanno della merce contraffatta. Ci è servito anche proprio per dare un biglietto da visita anche del turista che può venire naturalmente a Lavagna e diciamo stare sulle spiagge tranquillo. Tra la merce sequestrata soprattutto scarpe, cinture e occhiali da sole. L'operazione sarà portata avanti fino al 15 settembre e l'obiettivo per questa seconda parte di servizio è quello di azzerare la presenza di venditori abusivi sul litorale lavagnese.